Poteva essere la domenica del Cerniola in vetta la classifica oppure del 13 della Fidelis ed invece no la copertina della sedicesima giornata del girone H, penultimo atto del girone andata nel campionato di Serie D. Se la prendono le due murgiane, entrambe vittoriosi in casa con un punteggio netto ed identico, 4-1. Fa certamente più effetto il successo del Gravina contro un'Andrea in Serie positiva da 12 turni che paga gli infortuni dopo pochi minuti di Gregoric e Cristaldi. I murgiani colpiscono al quarto d'ora con Nigro in avvio di ripresa con Santoro, poi Chiaradia e lo stesso Santoro completano il poker dei gialloblu di Valeriano Loseto che tornano a vincere dopo 5 turni di astinenza. Inutile per i biancazzurri la rete di Porcaro allo scadere. Una vittoria sicuramente meritata per quello che si è visto in campo. Diciamo che il nostro campionato doveva iniziare oggi alla chiusura del mercato che ci ha portato degli elementi di buon livello ci ha riconsegnato anche alcuni incalciatori che erano acciaccati. E ora magari con un po' in più di serenità e tranquillità cercheremo di lavorare e riuscire a centrare questa benedetta salvezza quanto prima. Non è stata una delle migliori prestazioni. È evidente che la partita non è proprio iniziata nel migliore dei modi perché abbiamo avuto due infortuni, immagino, nei primi cinque minuti e quindi abbiamo perso un po' di solidità. Vince 4-1 anche il team Altamura che batte la Sarnese. Torna a gioire in casa a distanza di tre mesi dall'ultima volta. Primi 20 minuti devastanti per i murgiani. Assegna un'apertura con Palazzo, poi con Portoghese e ancora con Gagliardi. I campani accorciano in chiusura di frazione con Maione. I pugliesi invece completano il poker con Rabbeni in avvio di ripresa. Team Altamura quinto in classifica insieme ad Andrea e Nardò. Crolla a Picerno, sempre per 4-1 sul campo della capolista, invece il Cerignola che scivola a meno 5 dalla testa della graduatoria. Esposito e Tedesco spianano la strada ai padroni di casa. Foggia accorcia per gli offantini alla mezz'ora. Poi è solo Picerno che ristabilisce le distanze con Langone e va in gol nel finale con Pitarresi dal dischetto. È stata una partita meritatamente persa e meritatamente vinta dal Picerno, senza dubbio insomma, davanti agli occhi di tutti. Di sicuro non abbiamo fatto la nostra partita. Praticamente non siamo stati i nostri soliti. Sembravamo sin dalle prime battute anche un po' impauriti. Perde in trasferta anche il Bitonto, sconfitto 2-0 a Sorrento, retti campane di Figliola e De Rosa. Non siamo stati brillanti sicuramente come le altre volte. Probabilmente abbiamo provato in tutti i modi a cambiare in mezzo, davanti, sugli esterni. Ma ci è mancata sicuramente quella lucidità, quella cattiveria che si è vista anche nel secondo gol quando ci siamo fatti praticamente spostare tranquillamente. Poi loro hanno raddoppiato. Taranto ora terzo in tutta solitudine grazie al gol nel finale di Croce che stende il Pomigliano a Mugnano di Napoli. Finisce 1-1 a Nardò il derby tra Salentini e Fasano. Ospiti in vantaggio con Corvino, padroni di casa che pareggiano a meno 10 dello scadere con Acquaro. La patricola di Giuseppe La Terza tornerà in campo già domani per il recupero casalingo contro il Savoia. Fischio d'inizio al Vito Corlo, previsto alle ore 14.30.